siamo di fronte probabilmente ad una hit credo perché insomma dentro ci abbiamo due hit maker di fatto e sono molto curioso signori siamo qui per lanciare la traccia numero 4 solite pare fit da supreme e spera e basta vai che base cosa cazzo madonna oh sfera dai sfera cazzo sono preso bene tu scusami se non parlo con te non fumo con te no oh sfera oj 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 oj